Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati su Kanegima Gamer Oggi siamo qui in un nuovo video e sono qui per scusarmi per la mia assenza sul mio canale Innanzitutto e anche sui vostri Ma davvero è un periodo in cui sono stra impegnato E il tempo per fare un video o commentare non ne ho Quindi state certi che il vostro video la mia visualizzazione ce l'ha E anche il mio mi piace però purtroppo il commento non faccio in tempo a lasciarlo Ringrazio chi è ancora attivo sul mio canale Spero come sempre di poter tornare a essere un po' più attivo Stavo anche pensando di aprirmi un nuovo canale eventualmente per dare un format più chiaro Però è soltanto un progetto in mente Poi vedremo un po' come va Altrimenti rimango con lo stesso canale Sempre con la stessa passione ragazzi di condividere con voi di tutto e di più Detto questo ragazzi buona visione Ah volevo scusarmi se nel video sentirete un eco fastidioso O un sottoppiamento di voce da parte di Dave Ma c'erano problemi di connessione con il discord che utilizziamo per giocare E questo causava veramente dei lag fastidiosi alla voce E soprattutto poi abbiamo anche deciso di dare un nuovo inizio a questo rainbow Cambiando totalmente nome Non mi chiamo più Dub Gemma io sul rainbow Ma Kaio Dub Abbiamo deciso quindi di chiamare il nostro team Kaio con la ilunga Non chiedetemi perché ma è una cosa veramente così banale che abbiamo deciso di mettere E quindi sembra portare fortuna e speriamo di arrivare anche in argento finalmente che lo sto aspettando Detto questo ragazzi mi scuso se mi sono delungato e buona visione Grazie 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 Devo cercare la finestra? Non Ok 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 Che spizio con la telecamera oh Sono lì Noice Ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no c'ho 4 di vita dobbiamo piantare vai 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 stay there nice jackal this was wow i am butted in mezzo fumo vaffanculo left mira wait wait sto pure io da lui eh da mira vedi la finestra che sta uno nel buchino a sinistra c'è uno c'è uno c'è uno appena sono sceso lo vio c'è uno Farsi sì No Wait Mira Deve mira Mi l'avevo rotto il vetro però Ash come here come here Ash come here come here Possiamo piantare possiamo Fast 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 Come here 15 secondi left 1 up 4 remaining You have dropped the damage 10 secondi remaining Nice GG thank you for getting the best players We are Kaios Easy cut Kaios Festa che vittoria Sei sei Vedi il primo Zboom 10 4 3 4